Allora, terza parte di Toro Amore Mio, abbiamo, stravolgiamo tutto ovviamente, abbiamo al telefono un grande amico, Leo? Ciao! Ciao Leo! Allora, abbiamo Leo Junior al telefono, ti presento i nostri ospiti, abbiamo Fabrizio Bellone, Silvia Vada, il Mago Alexander e l'Avvocato Savasta e i nostri ospiti, quando ho detto c'è Leo al telefono e tu hai detto una parola, non pensavano che fossi tu? No, è una emozione! È un'emozione talmente grossa che... È un'emozione talmente grande, cioè, a me ho detto una presa in giro, cioè, è uno scherzo del Mago Gab, cioè, del Mago Alexander. No, no, non gli svegliate la concorrente! Non è possibile! Allora, noi abbiamo chiamato Junior perché sentire Leo è sempre un piacere, una persona straordinaria e tutto quanto, ma non solo, perché l'altro ieri ha fatto gli anni. E quindi tanti auguri, Leo! Parabéns si dice, parabéns! Grazie, molto obrigado! Allora, Leo, tanti auguri ovviamente da tutti i tifosi che stanno già iniziando a scriverci, proprio per farti gli auguri. Come stai? Tutto bene, io anche ieri ho ricevuto un sacco di e-mail da tutti quelli, non soltanto da Torino, ma anche da Pescara, un sacco di gente, per gli auguri di... Sto come, 56 anni, ormai sono vecchio a te! Eh, no, no, no! Anche perché noi stiamo vedendoti con la maglia granata ed è sempre, devo dire, un'emozione incredibile vederti con quella maglia numero 5. E tu adesso stai battendo in questo momento un calcio d'angolo che poi... C'è un colpo di testa di Serena, ti viene in mente qualcosa? Ah, certo, quei derby, né? Quei derby che abbiamo vinto al novantesimo lì, che il nostro grande presidente Sergio Rosi per un pelo no... Non ha dei problemi quei giorni. Senti, adesso tu fai il telecronista per Rede Globo, vero? Sì, ormai sono quasi dieci anni che lavoro con la TV Globo. Primo lavoravo con la televisione a cavo. Da due anni che lavoro con, diciamo, la televisione aperta, come diciamo noi in Brasile, che sarebbe per esempio la RAI, che non ha bisogno di avere il canone per vedere e per sentire anche. Certo, certo. Senti, Leo, noi abbiamo anche una foto, che fra l'altro mi hai mandato tu nei giorni scorsi, che in cui ci sei tu, c'è Casagrande e c'è Francescoli, che sono in pratica tre grandi del Toro, che insomma davvero avete fatto grande questa squadra. La possiamo anche vedere, una foto che avete scattato la scorsa settimana in Sudafrica. Innanzitutto, come sta Casagrande? Sì, sta benissimo, eravamo qui, abbiamo finito di mangiare, appena appena, stiamo preparando già per domani, perché facciamo la cronica della partita, noi due SM anche con Falcão, che è in Brasile, e facciamo tutto SM, stavamo parlando anche anche di un po' di, di tutta questa gente che con questi giorni mi hanno mandato dei mensaggi, dell'e-mail, parlando un po' di Torino. E questo giorno lì è stata una coincidenza, perché c'era Enzo, che faceva anche lui, la trasmissione, di vicino, ho detto, no, non possiamo perdere questa opportunità, perché noi tre abbiamo passato, abbiamo un po' di avventure lì a Torino, e allora abbiamo fatto questa fotografia e l'abbiamo mandato per gli amici. Leo, ti diverte sempre il calcio? Eh, per dire la verità, la diversione maggiore è quando giochi, eh. E io ho già provato un po' di tutti, sono seduto in panchina, ho fatto direttore esportivo, però, sai, il piacere di giocare è anche perché dipende soltanto da terra, sai, quando fai allenatore dipende anche del lavoro che fai tutta la settimana, e dipende sempre dell'e-auto quando sono in campo. Però adesso io dico sempre che io non perdo mai, perché sono sempre lì in cabina per fare la cronica della partita, parlare un po' di tutto che abbiamo vissuto, abbiamo visto nella nostra vita dentro il campo. Sicuramente è molto più facile, però il piacere è maggiore quando si sta in campo. Che effetto ti fanno tutti questi giocatori brasiliani anche in porta, in difesa, oggi qui in Italia, farla da padrone? Ma un cambiamento abbastanza grande, perché prima, cioè, i portieri brasiliani non è che erano un granché. Sai, dopo Taffare, questi portieri sono di libertà anche grandi, perché? Perché hanno avuto dei professori, hanno avuto della gente che una volta è stato in porta e adesso insegnano a quelli che sono lì. E allora, sai, abbiamo portieri brasiliani dappertutto. E poi abbiamo sicuramente, assieme a Buffon, i due più grandi portieri del mondo. E la tua seconda grande passione è la musica? Eh, rimane sempre. Adesso no. Ormai sono tre anni che faccio un progetto sociale a Rio, esattamente a Barra da Tijuca, nei quartieri dove abito, che facciamo ogni 15 giorni una serata di musica brasiliana, nella quale, diciamo, tutto quello che incassiamo mandiamo per... Ma qual'era la tua canzone che cantavi che diceva Rapaziada e poi? No, Rapaziada, già guardei le mie strade, sto voltando da Italia, né? Sto indo pra Italia. Che sarebbe una musica che abbiamo fatto io e Alceu Maia, mio compare, che sarebbe esattamente prima dell'avventura italiana, che fa una mescolata alla fagiolata con... Sì, me la ricordo, me la ricordo che la cantavi qui. Sì, sì, sì. Senti Leo, chi vince il mondiale? Chi vince il mondiale? Il mondiale per me sta tra Brasile, Germania e gli altri non lo so. L'Argentina no? Per me l'Argentina si ferma con la Germania, la Germania è una squadra abbastanza quadratta. E la Spagna? Questo diciamo, la Spagna mi piace da morire, la Spagna ha fatto una grossissima partita contro il Portogallo, ha giocato come ha giocato nel loro coppio. Questa è una squadra che sicuramente farà in strada. Sai, però in questa fase qua, in questa fase di... che non puoi sbagliare niente, tutto può capitare. Senti Leo, ma in Brasile si parla di Torino, se ne parla ancora? del Toro si parla? Io sempre, io sempre. Ho il Toro un po' meno perché in Serie B, in Serie B non si vedono le partite. Senti, ma che messaggio mandi ai tifosi del Toro? Il Vansaggio è quello di sempre. Il Toro rimarrà per sempre nella mia vita. Poi ce l'ho una figlia nata a Torino. Non posso dimenticare mai. Poi, i tre anni che ho vissuto lì, mi sembra un'eternità. anche per tutto quello che mi hanno dato, tutto quello che abbiamo vissuto assieme. Questa settimana ho avuto un e-mail di una signora che mi diceva quando mai avremo una squadra come quella dell'84-85. Io l'ho scritto che non so se avremo di nuovo una squadra come quella lì. però l'amore, la soddisfazione, il piacere di aver vissuto, di aver messo addosso, l'amore rimarrà per sempre. Lì è un discorso che non cambierà mai. Leo, noi ti ringraziamo per... Posso dedicare una canzontina? Sì. Cosa fai? Grazie. Chi non gosta di samba, buon sugeito non è, è ruino da cabeça o doente do pe. Io nasci con il samba, non samba mi criei, come ho detto di samba, non mi separei. Allora noi a Leo diamo 10 come voto, ma Leo che voto da Silvia che canta. Sono stata coraggiosa. L'hai vinto dal vivo, che venga un giorno lì in Brasile, a Rio soprattutto. Certo. Venite a cantare qualche canzone lì dove faccio questo concerto ogni 15 giorni. Ah, benissimo, vengo di sicuro. Viene pure. Grazie Leo, grazie Leo. Grazie Leo, sei sempre unico, assolutamente unico. Buona serata, grazie ancora. Comunque non se la cava solo a cantare, deve salire sul carro, fare un samba. Naturalmente. Guarda che lei lo fa, eh. Lei lo fa, eh. Lei lo fa, eh. Lei lo fa. 15 giorni adesso. No, no, è una faccia. Ma lei è brasiliana. Eh, ma sicuro. E qui ne sto sangue. Abbiamo avuto questa... Era un po' genovese, eh. C'era un pezzo di genovese. Allora, prima che tu ne canti un'altra però, fammi ringraziare Fabio Milano che ha fatto questo montaggio di immagini che ci ha messo la pelle d'oca, ha fatto venire a me sicuramente non soltanto a me, bravissimo questa volta più che mai perché davvero, mai come per Leo ci ha messo davvero il cuore. Grazie. 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 Grazie a tutti